Chioggia è innanzitutto una bellissima città. Merita di essere vista, raccontata, interpretata per la sua cultura e la sua tradizione. Chioggia merita una maratona. Perché la maratona sostiene il commercio e Confesacenti, essendo un'associazione di categoria per il commercio e il turismo, ha sposato questa iniziativa, la seconda edizione, tra l'altro, su Chioggia. Perché a Pagandimos piacciono le foto, è un amante delle fotografie. Quindi questo concorso fotografico, questa maratona fotografica, credo che sia più che mai indicata per valorizzare i nuovi talenti della fotografia. che porterà sicuramente a dei successi sia il commercio che la fotografia. Pertanto sostengo la maratona perché mi ossigena la mente. Per te si vince un viaggio a Pereira con Sunslash Travel. Cos'è Chioggia? Mi dispiace per gli altri. Devevo!!!